ben ritrovati a tutti carissimi amici chitarristi come vi avevo promesso nel video precedente questa sera andiamo a vedere il risultato del restauro della stratocaster 40esimo anniversario è già stata riconsegnata al suo legittimo proprietario il quale mi è passo molto molto contento strumento cui abbiamo dato nuova vita e andiamo subito a vedere prima le condizioni in cui versava lo strumento nel momento in cui l'ho disassemblato e poi il risultato finale a fine lavori vi assicuro che ci è voluto parecchio olio di gomito parecchia pasta abrasiva e pasta allucinante per ridare nuova vita e nuovo splendore a questo strumento purtroppo non ho avuto il tempo materiale per testarlo e andiamo subito a vedere cosa ne è uscito permettetemi di cogliere anche l'occasione per ringraziare veramente di cuore tutti voi perché abbiamo sforato quota 400 iscritti un risultato che mai mi sarei aspettato nel momento in cui ho iniziato a postare qualche video quindi veramente questo è merito vostro della vostra pazienza del vostro interesse e ringrazio anche tutti coloro che magari hanno visionato i video ma che non si sono ancora iscritti al canale potrebbe essere l'occasione per ripensarci è semplicissimo basta cliccare nel nell'apposito spazio per l'iscrizione vi invito anche a lasciare un like se i video sono di vostro gradimento e a mandarmi anche i vostri spunti per avere idee per formulare o comunque andare a trattare argomenti nei video che usciranno successivamente mi anticipo già che il prossimo video sarà un video bomba nel senso che tratteremo un argomento che è veramente ma veramente delicato e caldo per tutti noi chitarristi noi ci vediamo alla prossima buona visione ciao 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 ciao